Formare un ponte tra volontari e persone si è celebrata sabato 19 ottobre in tutta Italia la sedicesima giornata nazionale AVO che aveva per tema Amico Oggi, Volontario Domani. L'intento è stato quello di sottolineare l'importanza di creare un collegamento tra le persone interne e quelle esterne all'associazione con la speranza che i ragazzi che partecipano alle attività donando parte del proprio tempo dopo queste esperienze possano entrare a far parte dell'associazione. Grazie al cielo adesso abbiamo anche un bel numero di volontari giovani o di mezz'età insomma persone che ci danno la certezza che l'associazione andrà avanti, questo è bello e poi anche per noi diversamente giovani è bello trovarsi con persone che a loro volta ci danno stimoli, ci fanno ringiovanire, ci fanno ricaricare di entusiasmo. A Chiavari anche la residenza Anni Azzurri Castagnola ha festeggiato questa giornata insieme agli ospiti e ai loro familiari, un clima di gioia e spensieratezza che unisce le persone nel cuore formato da due mani che si stringono, simbolo ideale dell'impegno AVO, della passione e della consapevolezza che l'unione fa la forza di tutti, non solo di chi riceve aiuto ma anche di chi lo porta. Noi crediamo moltissimo che la parte di volontariato, la parte di AVO con Mimma, Tony, gli amici che in questo anno sono venuti nelle nostre strutture concorra con una creatività nuova a questa idea di benessere, quindi per noi anche come lavoro sulla qualità delle nostre strutture vogliamo avere questa partecipazione dei volontari, i volontari AVO hanno un'umanità e una creatività che tutti i giorni ci stupisce e che vogliamo continuare a portare avanti.